In primo piano l'emergenza contagi da Covid-19 in Abruzzo alla vigilia della riunione della cabina di regia nazionale che domani alla luce dei dati epidemiologici deciderà se estendere la zona rossa a tutto il territorio regionale preoccupano le varianti del virus e l'aumento dei ricoveri in ospedale. Ma ci colleghiamo con Fabio Lussoso che si trova a Pescara, lo vedo in compagnia del virologo Paolo Fazzi che è componente del Comitato Tecnico Scientifico Regionale e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Santo Spirito. Fabio la linea a te. Sì grazie Gigliola, buon pomeriggio, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Noi siamo all'ospedale di Pescara in compagnia del dottor Paolo Fazzi, virologo, per entrare nel merito dell'emergenza coronavirus. Preoccupano i dati soprattutto sui contagi e c'è grande apprezzione per queste varianti presenti nella nostra regione. Sì, purtroppo l'avvento della variante inglese, in particolare nella nostra regione, nell'area metropolitana di Pescara, ormai abbiamo forse un 60% di prevalenza, forse pure di più, della variante inglese, ha determinato, probabilmente questa è la causa principale, un aumento della circolazione del virus e dei casi di malattia. È naturale che è una situazione che non è ancora critica, fortunatamente, perché abbiamo le armi per poter affrontare, dal punto di vista diagnostico e anche terapeutico, ovviamente le complicanze delle infezioni, oppure noi come microbiologi, virologi, riusciamo ad intercettare con i tamponi o con altre armi il virus che circola. Quindi, però, è una situazione comunque da tenere in debita considerazione. Le unità di crisi, ovviamente costituita anche da sottoscritto a livello regionale, piuttosto che quella, diciamo, aziendale, costituita, come sapete, da tecnici, esprime, ma ormai sono mesi che ci si riunisce puntualmente, i propri pareri e poi, ovviamente, sono i politici che devono fare una sintesi di quello che si è detto e che si vede e prendere le decisioni. Aumentano i ricoveri in ospedale, qual è la situazione del Covid Hospital, dottor Fazio? Allora, purtroppo questa circolazione ha comportato un aumento di casi clinici e, purtroppo, ovviamente, l'ospedale, il Covid Hospital è diventato quasi saturo e, comunque, molti pazienti poi vengono dirottati nella rete regionale di ospedali Covid per posti, quindi, alla gestione di questi particolari malati. Ecco, le rinemazioni reggono ancora e questo è un segnale importante. Per concludere, dottor Fazio, la cabina nazionale si esprimerà venerdì prossimo sui vari colori delle regioni, la situazione qui in Abruzzo non fa ben sperare. Il Presidente Marsilio ha già attuato un provvedimento di zona rossa nelle province di Pescara e di Chieti, ha dato dei risultati che voi vi attendevate? È troppo presto adesso, bisogna aspettare comunque alcune generazioni di virus, perché i virus poi si replicano e, mediamente, diciamo, un virus riesce a generarsi ogni 4-5 giorni. Ecco, quindi non lo possiamo ancora dire, però sicuramente, diciamo, un atteggiamento, ecco, più congulo da parte di tutti ci aiuterà comunque a far circolare meno il virus. Bene, ringraziamo il dottor Paolo Fazzi. Dall'ospedale Civile di Pescara è tutto, ringrazio Diego Martelli per questo collegamento. A voi studio.